Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Devo mandare fax! Accitudi. Campolunghi Luca. Tocco Gianmarco. E il chaddon con filtro del chaddone. Data di nascita 1969, altezza 80 cm, peso 116 kg, numero di maglia 69. Teoricamente se ti metti una luce dietro è meglio. Oh, c'è il cazzo luminoso. Oh, me si è scopato il sole. Ta 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 L'ho enfilato sul sole, il sole l'ho enfilato. Che cazzo vi ridete che ci avete? Seii anni! Addio probabilmente si. Quinta posizione non me la leva nessuno 17 Già no Te l'hanno tolta No, non te lo fa, Marzo, dai Era l'unica kill che potevo fare Non è vero Scemenze Ma ci sai che te dico E questi cosa sono? Chimai erano in Sud America Che è uguale all'Egitto Quindi non mi rompere i coglioni Se se ne muove uno Mi altero Quindi questo Quanta vita c'ha? 3.000 Eh, è vero Non ho gasato Però ma l'hai clappato prima Ma di che hai paura, Gianlu? Fabio, ma che mi metti dall'XLR? Che ti ho messo l'XLR? Eh, dai, che fai la gang con la radio E metti dall'XLR roba strana Pazzo Ma che è stato di? Come se ne esce? Vabbè, devo suonare il corno al mare Allora mi avete ingolato il cerchio Così Ma tiramensiluro Intanto vorrei ringraziare un mio bro Che mi si avvicina e dice Ho una maglia per te Ti faccio bro Va bene Sono abituato a ricevere maglie di merda Tanto dai fan Ci sta il video su TikTok del Gabron 3 Che dice a sti ragazzini Che ti devono lanciare il cornetto A se vuoi vedilo Ma porco Dio Ma esci un attimo Provare a tirarlo E poi far trovenire su le cose E tu c'hai ragione Fa Francesco Arrivato Eccolo Eccolo Spara la cosa Aspetta Eccolo 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 Gli basta poco Gli basta poco Aveva costruito La retina perfetta Ma era la tripla esplosione Avete visto Le fiamme nelle rette Che è Un colpo Tutta questa hype Per un colpo Ma che è Anna Thunderberg È una mossa Che impara Pikachu al 43 Salete nella ziplina Che cazzo è Anna Thunderberg Questa è una ziplina Questa è una ziplina Questa è una ziplina Ma fosse un tuono Cristo Thunderberg Ma attenzione qui Che si cade Ma però Preghiamo Forse innappare Son male Ma piaciato Sì Ben Si fa Sì Mettendosi altre tre volte La maschera Del cavallo Padre campione De scacchi A madre A madre Con parentere africane Sei nato Stupido Col cazzo Pico Alц beaten Certo, perché non chiudersi dentro a chiave con un tizio che effettivamente gira per la casa? Sei un genio, porco Dio, sei un genio. Ok, genio. Dove cerchiamo, Dumet? Io non cerco Dumet. Guardo dove girare. E se lui se ne salta fuori, tanto meglio. Gesù. Del resto non ti importa nulla. Sì, che mi importa. Dillo a Kate. Sappiamo entrambi che appena accenderemo la telecamera si piazzerà davanti all'obiettivo. Che schifo, per quel stop trollato. Mi hanno distrutto il mio fazone. Non ho accettato perché... Di H.H. Holmes. Cazzo! Stai bene? No! Questo cazzo di cosa è sbucato fuori dal nulla! No! Ragazzi... Visto? Bro ha un coltello in mano... Che cos'è? Una specie di animatrone? Sì, è piuttosto inquietante. Sono stato invitato al torneo da un milione e mezzo di dollari dei Fades. Che dovrebbero fare per Natale insieme a MrBeast. Che lo osta lui. Eh sì! Sai com'è? Quando non sei per niente forte a Fortnite, ma sei famoso su Twitch. Succedono anche queste cose incredibilmente. Quindi toccherà, toccherà a MrBeast e gli si fa... A MrBeast e gli si fa... Fofia Sorini! Fofia Forini! Pencecchino sul gioco dello Yeti, eh? Sì! Apri WhatsApp! Scontato? Scontato? Ovviamente scontato. Però... All'ottava! Me l'ha fatto! Cioè, è da ieri che io trovo sti buchi dove guarda!